Radio Base Ascolto e quindi lo sportello legale che abbiamo attivato già una quindicina di anni fa e prosegue nel suo servizio di collaborazione alla Caritas Ecco, a chi si rivolge questo servizio? Beh, è un servizio di prima accoglienza di quelli che sono gli aspetti e le problematiche legali che le famiglie ci pongono dopo il primo ascolto che è quello essenziale sostanzialmente quando ci sono delle questioni legate appunto agli aspetti legali andiamo a fare una prima consulenza cerchiamo di capire se effettivamente è quello il problema fondamentale perché spesso il problema legale che può essere anche una questione legata alla separazione si trova insieme ad altre questioni, ad altre multiproblematicità della famiglia e quindi cerchiamo di dare per quanto è possibile un indirizzo o una soluzione prima soluzione del problema, della questione Avvocato, ci sono dei giorni della settimana dove è possibile potersi rivolgere a questo sportello ascolto? Prima abbiamo un ascolto generale che è quello fondamentale per i nostri ospiti e poi il giovedì normalmente abbiamo appunto dalle 17 alle 19 la disponibilità per la consulenza legale Noi ringraziamo l'Avvocato Cristoforo Senatore responsabile dello sportello ascolto legale della Cittadella della Carità Santa Teresa di Calcutta di Cavati Tireni Radio Base